Siamo tutti consapevoli del fatto che qualcosa si è spezzato nella società italiana, altrimenti non saremmo qui e che questa frattura ci sia lo hanno confermato vicende recenti, a cominciare dalle elezioni. Il risultato elettorale ci parla di molte cose, ma ci parla di questa impressionante presenza dell'astenzione, che non è il risultato dell'apatia, ma è piuttosto la certificazione della perdita della capacità rappresentativa delle istituzioni davanti a coloro i quali dovrebbero essere rappresentati. E allora il primo compito della coalizione sociale è quello di intervenire su questa separazione tra società e istituzioni restituendo significato alla rappresentanza. La rappresentanza non è soltanto la rappresentanza parlamentare classica che quindi richiede il passaggio tante volte evocato, ma ci sarà un partito, ma ci sarà un soggetto politico. La rappresentanza è qualcosa di più complesso ormai, è la consapevolezza e la possibilità concreta di avere voce nella società. E quindi questo è il primo punto della coalizione sociale. Ma queste settimane ci hanno detto un'altra cosa e utilizzo allora il riferimento a mafia capitale. Non è solo una vicenda di corruzione, anzi non è una vicenda che possa essere interpretata in qualche misura combattuta partendo dalla premessa che si tratta soltanto di un fatto gigantesco, impressionante di corruzione. A parte che non è un fatto unico, ha dimensioni particolari a Roma, ma abbiamo i precedenti, Venezia, Milano, ma aprite i giornali, ogni giorno c'è in qualche luogo una procura che apre un fascicolo. Quello che è avvenuto e che Roma ha messo in evidenza è la disgregazione dello Stato, una disgregazione dall'interno per il congiungersi di una serie di fattori, oligarchie politiche, degenerazioni burocratiche, uso improprio dell'associazionismo che fatalmente avrebbe incontrato la criminalità. Questo è dunque un punto di riflessione comune. Se noi ne facciamo soltanto un problema di corruzione, se noi affidiamo l'intera gestione di questo aspetto della società alla magistratura, per carità fa benissimo il suo lavoro, io sono un difensore storico della magistratura, critico di singoli atti, quindi se noi partiamo da questa premessa commettiamo un gravissimo errore e ci allineiamo tutto sommato, lo dico con tutta la prudenza, sulla linea assunta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha detto faccia il suo mestiere la magistratura, io però sono un garantista e quindi non intervengo laddove e dirò perché dovrei intervenire. C'è un garantismo peloso, ipocrita, che è nato nella deprecata Prima Repubblica, in cui si diceva noi dobbiamo essere garantisti, non possiamo in nessun modo intervenire su politici, amministratori, prima che ci sia una sentenza passata in giudicato, il che ha voluto dire negli anni mai, perché le sentenze passate in giudicato arrivano magari dopo dieci anni o c'è stata la prescrizione. Renzi ha assunto lo stesso modello, io non tocco nessuno perché sono un garantista, ma lui non deve toccare, lui non deve guardare agli avvisi di garanzia, quello è il lavoro della magistratura, lui non deve guardare al codice di procedura penale, deve guardare all'articolo 54 della Costituzione, dove è scritto che coloro i quali sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. Questo oggi è il tema che abbiamo di fronte e cioè il tema è quello della ricostruzione dell'etica civile, dell'etica pubblica, compito al quale questo governo si sta sottraendo in modo, permettetemi di dirlo, più sfrontato che in passato, perché lo proclama con una sicumera che francamente mi inquieta. E allora secondo punto per la coalizione sociale, la ricostruzione dell'etica civile. Ma c'è un altro aspetto che è già stato ricordato ma sul quale io voglio tornare e cioè tutto questo è avvenuto innescando in definitiva o fondandosi in molti casi sullo sfruttamento delle persone. La parola sfruttamento usiamola perché sembrava che noi dovessimo metterla in soffitta la parola sfruttamento. Lo sfruttamento è qualcosa che non scopriamo però attraverso mafia capitale, è stato già ricordato, sono stati nominati Castelvolturno, Rosarno, la schiavitù di quelle persone. Diciamo la zona di Enna dove sono sfruttate anche sessualmente le donne rumene che lavorano in quel luogo. Ha ragione Giuseppe Di Marzo, quando a dire c'è attenzione ai poteri leciti perché qui di fronte allo sfruttamento c'è un silenzio istituzionale. Il ministro Poletti farebbe bene a parlare meno di alcune cose e a mandare più gli ispettori del lavoro in una serie di luoghi. E sulla base dei rapporti fare quello che è dovuto a un pubblico ufficiale pena l'omissione di atti d'ufficio inoltre le denuncia alla magistratura. Allora terzo compito della coalizione sociale rendersi conto che c'è una condizione del lavoro che è stata qui così bene descritta che non ci torno sopra e sono grato a coloro i quali hanno fatto questo lavoro ieri e l'hanno riportato qui stamattina ma c'è un punto che è quello che dobbiamo far uscire dalla schiavitù e dallo sfruttamento radicale decine di migliaia di persone che sono nel nostro paese. La coalizione sociale deve mettere al centro anche questo punto assai concreto e dato che si è fatto con tanta insistenza, io la condivido, si è fatto riferimento al territorio perché non dobbiamo sempre vederci qui a Roma a dire partiamo partiamo, ormai siamo partiti e siamo su un treno in movimento e allora bisogna che tutti, come si dice a Roma, si diano una mossa. Territorio vuol dire le cose di cui sto parlando. Ma se queste cose sono vere per un minimo, allora noi ci dobbiamo rendere conto, ma è stato già ricordato e io ci torno, che ciò che è in discussione è veramente la democrazia in questo paese. È in discussione la democrazia per molte ragioni, perché si è cercato e si sta cercando di costruire una democrazia senza popolo e senza società. Questa è un'illusione che ricorre ogni tanto e voglio fare un riferimento a una vicenda che è stata giustamente evocata molte volte qui, quella della scuola. La vicenda della scuola, ieri Renzi ha detto sì abbiamo sbagliato, farò qualcosa. Perché lo dice? Perché c'è stato un fatto di popolo, un risveglio della società che ha avuto degli effetti. Ho l'impressione che Renzi se la voglia giocare tutto nella vicenda interna del Partito Democratico per uscire da qualche difficoltà con i suoi oppositori interni. Ma riflettiamo su un fatto. Quelle persone che anche con qualche merito hanno sollevato in sede politico parlamentare il tema non avrebbero avuto la capacità di farlo, forse neppure il coraggio, se non ci fosse stato quello che è avvenuto. E Renzi cerca di strumentalizzare questa vicenda per regolare partite interne, ma in realtà lo fa perché si è reso conto che se la società si muove, perfino lui che credo abbia abbracciato il credo di Margaret Thatcher, la società non esiste, è costretto questa volta a fare conto. Dunque, altro compito della coalizione sociale è dire che la società c'è e non se ne può prescindere. E in questo modo la sfiducia che ha preso tante persone, la sfiducia che induce a non andare a votare, questo tipo di sfiducia può essere almeno sfidato e mi auguro vinto. Ma c'è un punto che io ritrovo nella discussione, ahimè nel lacrimevole modo che troppo sui giornali si ha quando si rappresentano delle situazioni, ma noi non possiamo abbandonarci al movimentismo. Io mi fermo un momento su questo punto perché qui c'è una questione di democrazia molto importante. Si parla molto di democrazia, si dice una democrazia decidente, è una parola che piace molto all'entourage del Presidente del Consiglio, che poi significa una democrazia autoritaria, ma poi alla fine c'è un punto vero che noi dobbiamo registrare. E cioè che nelle dinamiche sociali e politiche, non solo italiane, nell'ultimo periodo si è avuto una saldatura molto forte tra governo e Parlamento, tra esecutivo e corpi rappresentativi che rende più faticoso il funzionamento delle istituzioni tradizionali della democrazia e che cerca di azzerare i poteri di controllo. E allora se davvero, come si dice, ma noi vogliamo avere una cultura moderna e adeguata, guardiamo a tutto, adesso io non voglio mettermi qui a farla lunga su questo tema, ma c'è un modo di guardare a questa situazione non registrandola passivamente, non c'è niente da fare. Anzi, come si sta facendo in Italia, razionalizziamola e spingiamola alle frontiere estreme, Italia in più riforma del Senato. Questo vuol dire. Ma allora guardiamo al fatto che esiste un'altra cultura, un'altra riflessione sulla democrazia che dice che la democrazia in realtà può essere salvata soltanto in una situazione come questa se si sprigionano, uso un'espressione di uno studioso di questi problemi, se si sprigiona tutta la creatività sociale. Questo è ciò che noi abbiamo in questo momento davanti a noi come compito. Il sistema democratico si salva e riesce a recuperare democraticità. Se vi sono gruppi, persone, movimenti che hanno voce, la manifestano e in questo modo creano situazioni di riequilibrio democratico e ci dicono che il potere non è concentrato soltanto in alcune mani. Certo che in questo momento il conflitto è proprio qui. Perché Renzi non vuole vedere il sindacato? Perché vuole spegnere le voci sociali, non solo i corpi intermedi, attenzione, è un progetto molto più insidioso e quindi noi abbiamo questo quarto, quinto, perduto il numero compito come coalizione sociale. Ma è stato detto, qui c'è un'altra cosa, dobbiamo reinventare i diritti. È vero, i diritti vanno reinventati. Li abbiamo nella Costituzione, ma la Costituzione ha un'apertura straordinaria. Quando è stato scritto diritto alla salute, nessuno ci credeva. Quando è stato scritto il diritto alla tutela del paesaggio, si è detto, ma il paesaggio è una faccenda che non può riguardare il diritto ai giuristi. E invece questi sono oggi gli assi portanti di una reinvenzione costituzionale, prima che si parlasse di tutela dell'ambiente. Si erano riusciti ad avviarne la tutela mettendo insieme paesaggio e salute, dicendo io debbo vivere in un ambiente sano. E quindi la Costituzione ci offre molte strade. Però attenzione, io non voglio prendere troppo tempo, ma voglio segnalare un problema, che è nato da una vicenda che voi conoscete bene, la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. Adesso, no no, io cerco di ragionare in modo pacato perché è difficile, ma insomma ci devo anche provare. Che cosa leggiamo in questi giorni sui giornali? Che è l'avvocatura dello Stato, scottata dal fatto che i ministri incauti, come Padoan e il solito Poletti, hanno detto tu non hai rappresentato adeguatamente davanti alla Corte Costituzionale il costo che quella sentenza avrebbe rappresentato per le risorse pubbliche e quindi in qualche misura tu sei complice di questa sciagura. E adesso cosa fa l'avvocatura dello Stato? Manda in una forma che qualcuno ha giustamente indicato parlando di un pizzino perché non c'è un canale istituzionale, non è stata diffusa la memoria difensiva dell'avvocatura dicendo che se si interviene dando attuazione a quanto è stato stabilito in sede europea per ciò che riguarda le retribuzioni pubbliche e il loro blocco il costo sarà di 35 miliardi. Allora permettetevi non di tirare la corda eccessivamente e spingermi sulle strade del paradosso ma dico una cosa molto semplice, queste vicende a che cosa si riferiscono? Si riferiscono a diritti sociali e questo è evidente, è implicata la retribuzione quindi è implicato il lavoro, è implicato molto di più cioè la vita libera e dignitosa dell'articolo 36, la dignità di tutti e ciò che viene in evidenza è un modo facile e pericoloso di governare. Dopo che per anni non è responsabilità di Renzi, ci sono responsabilità pregresse, l'imposizione tributaria nel nostro paese è stata destituita di una delle caratteristiche costituzionali e cioè la progressività, che cosa si fa in situazioni difficili? Si va a prendere, si vanno a prendere risorse dove è più facile e quali sono? Le pensioni e il reddito fisso, questa è una tecnica di governo che ha in questi anni creato in Italia una situazione drammatica. Ma io ricordo questo per tirare poi la mia conseguenza paradossale. Se davanti alla Corte Costituzionale arriva una violazione di diritti che costa poco, allora la Corte può intervenire o che non costa nulla come quella riguardante la procreazione assistita. La Corte ha fatto un grande lavoro, ha sbantellato la più ideologica delle leggi che si erano state approvate in Italia da quando la Repubblica esiste. Ecco, quando costa poco la Corte si può permettere il lusso di rimanere garante dei diritti. Qual è la via d'uscita? Diciamo o facciamo in modo che la tutela dei diritti, qualora venga ricostituita dalla Corte, costi molto e allora noi abbiamo una franchigia e questi diritti li possiamo cancellare. Questo è il paradosso che stiamo vivendo, cioè se c'è un'incisione sui diritti enorme, pesante, quantificabile, si dice alla Corte no, non può intervenire perché sennò gravi lo Stato di un costo insostenibile. Allora i diritti scompaiono con questo artificio contabile e allora noi dobbiamo andare a fare un passo oltre perché si dice ma in questo modo si turba l'equilibrio di bilancio, si viola l'articolo 81 della Costituzione. Ma attenzione, l'articolo 81 della Costituzione, detestabilissimo per molti motivi e introdotto con una forzatura nel nostro ordinamento imperdonabile, che cosa dice? Ci dice una cosa molto semplice, ci dice che deve essere mantenuto un equilibrio tra entrata e spese, questo ci dice e con le caratteristiche poi che ci vengono da avere tradotto un'indicazione europea. Questo vuol dire che c'è un monte di risorse che non può essere steso oltre quel limite, ma non ci dice poi come devono essere ripartite le risorse all'interno. Questa è un'altra delle falsificazioni, qui sorge la responsabilità politica, qui è stato benissimo ricordato che la gerarchia costituzionale ci dice che vengono prima i diritti fondamentali e poi tutto il resto e quindi quando governo e Parlamento distribuiscono le risorse devono in primo luogo assicurarsi che i diritti fondamentali siano garantiti. Questo è un punto molto semplice. Torniamo alla scuola e continua a esserci, usando l'espediente dell'aver considerato pubbliche le scuole, inventando le scuole paritarie e camuffando che cosa sia pubblico, si dà dodenari alle scuole private. Ora io non voglio fare la discussione che pure sarebbe legittima, che la Costituzione dice che in questi casi non devono esserci oneri per lo Stato. Ma dico una cosa molto precisa e molto semplice, la Costituzione dice che devono essere istituite scuole pubbliche di ogni ordine grado. Questo non significa mettere una targhetta su un edificio, significa provvedere le scuole pubbliche di tutto, compresa la cartigenica. Permettetemi di dirlo. E un euro potrà andare, continuando a violare la Costituzione, però potrà andare alle scuole paritarie solo dopo che tutto questo sarà soddisfatto. Perché questa è la logica costituzionale. La logica costituzionale impone è un vincolo alla discrezionalità politico-parlamentare. Questo è un punto essenziale. Il controllo di costituzionalità ha voluto dire questo, ha voluto dire che il Parlamento deve tener conto, la legislazione deve tener conto dei valori costituzionali. Non c'è un'indefinita e incontrollabile discrezionalità che passa come una schiaccia sassi sulle persone prima ancora che sui diritti. E ancora, violando anche gli impegni presi in Parlamento, ma non sarebbe la prima volta, perché il parere dato a proposito dei licenziamenti collettivi dalla Commissione all'unanimità, dalla Commissione al lavoro della Camera, è stato ignorato dal Governo in sede di decreti attuativi del Jobs Act. Ma era stato preso un impegno a dimezzare l'acquisto degli F-35. Quel denaro potrebbe assai servire in questo momento per investimenti e per sostenere il lavoro. Queste sono le reinvenzioni. Noi dobbiamo proporre con forza quest'altro tipo di riforma costituzionale. La riforma costituzionale che rimetta al centro dei diritti nella maniera che ho cercato di dirvi e che quindi impone un mantenimento integrale delle forme di garanzia. In primo luogo la Corte Costituzionale. Ci sono tante altre cose da dire, non le dico ovviamente, ma ci sono sentieri tracciati qui molto bene, quello dei beni comuni. Quando si è ricordato il gioco che è stato fatto nella direzione della Cassa Depositi e Prestiti con i beni devaniali, esiste in Parlamento alcune proposte di legge che appunto prevedono una riscrittura delle norme in materia in modo da evitare che queste operazioni possano essere fatte. Non si introducono soltanto i beni comuni collegati direttamente ai diritti fondamentali delle persone, ma si rifà un discorso complessivo sui beni proprio per evitare quello che sta avvenendo in questo momento. E la dimensione dei beni comuni è quella che apre la via alla partecipazione in senso serio. Oggi si parla, Chiara Saraceno ha detto, il welfare è un bene comune, la città diciamo è un bene comune, l'istruzione, la salute. E allora che cosa si vuol dire? Si vuol dire che quando si interviene in queste materie è prioritaria l'attenzione per gli interessi delle persone e che debbono essere messi nelle mani delle persone strumenti adeguati che non sempre sono quelli della gestione diretta per tutelare questi interessi. Quale sia la logica? Un piccolissimo esempio. Il Parlamento aveva approvato, ancora prima battuta, una modifica delle cosiddette class actions, cioè le azioni che i cittadini associati possono esercitare nei confronti di un'impresa quando ci sia stato un danno generalizzato. Ieri Squinzi ha detto ma questo sarebbe un carico inaccettabile per le imprese e l'eccellente Ministro Boschi ha detto subito cambieremo questo testo in Parlamento. Questi sono i riferimenti, questi sono gli interlocutori. i compiti sono tanti, ciò che si mette insieme non è soltanto, è venuto fuori con grandissima chiarezza stamattina qualcosa che parte da zero, no, parte da una realtà ricchissima che per esprimere tutte le sue potenzialità deve trovare modi di connettersi. Questo è il punto della coalizione sociale, identità che possono dimannere differenziate, è bene che lo rimangano, non ci deve essere una uniformazione a ogni costo, guai, ci deve essere concretezza, lavoro e semmai discutere anche aspramente sulle questioni come devono essere affrontate. Ma questo è il compito della coalizione sociale. Salvaguardare quello che abbiamo, che è un patrimonio grande, considerando che tutto questo assegna a chi si avvia, si incammina in questa direzione, un compito molto difficile. Ma è un compito che non può essere l'uso. E devo dire che oggi le persone che sono qui, si sono impegnate, hanno gettato un grande e generoso sguardo su questo Paese. Non è un azzardo, è un compito. Se volete è una scommessa, ma una scommessa su di noi, una scommessa su una società che non può essere considerata indifferente o inesistente. Una scommessa che può essere vinta, deve essere vinta. E permettetemi di chiudere, visto che sono riecheggiate parole come mutualità, che ci richiamano non il passato, ma una grande storia. Permettetemi di chiudere, l'ho fatto, forse qualcuno di voi l'ha sentito, ma mi torna irresistibile alla mente in questo momento. C'è una canzone che cantava Giovanna Daffini, un'ex mondina che aveva raccolto insieme al nuovo canzoniere italiano, questo straordinario patrimonio culturale, che sono le canzoni. Una delle sue canzoni dice, è un canto delle mondine, anonimo, come giusto che sia, sebbene che siamo donne, paura, non abbiamo, abbiamo delle belle e buone lingue, e in lega ci mettiamo. Credo che sintetizzi tutto questo. Le donne allora erano escluse, non votavano, non votavano. Addirittura prima del 1919 le donne sposate non avevano neppure diritti sul loro patrimonio e tuttavia, sebbene che siamo donne, paura non abbiamo. Non dobbiamo avere paura, per carità. Secondo, abbiamo delle belle e buone lingue, il diritto di esprimersi, lo diceva Sandra Bonsanti, di essere ascoltati, di vedere che le nostre parole arrivino dappertutto, ma non individualmente, è in lega ci mettiamo, l'azione collettiva, dunque la coalizione sociale. Grazie.